Restano gravi ma stazionarie le condizioni del bimbo di 10 anni caduto dalla sua abitazione a Battipaglia. Ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli, il piccolo per fortuna non ha subito traumi cranici nonostante il volo di circa 10 metri. Il tempo che passa è un suo alleato, proprio la giovanissima età infatti fa ben sperare che possa salvarsi. Il piccolo ha riportato un grave trauma toracico ed una frattura alla gambe e al braccio. Fuori dal reparto di rianimazione infantile del Santo Bono, distrutta dal dolore, la mamma del piccolo aspetta che gli arrivino notizie. Il piccolo è orfano di padre, morto 4 anni fa. A Battipaglia intanto si prega per la sua salvezza e si chiede rispetto del dolore che ha colpito la famiglia, rispetto del dolore della pravesi che in casi come questi diventa prima di tutto un dovere etico e morale. Intanto si cercano di capire anche i motivi che hanno spinto il piccolo a compiere il gesto. Su questo fronte le indagini affidate alla compagnia dei carabinieri di Battipaglia partono da un messaggio che il bimbo stesso ha scritto per motivare la sua scelta estrema, biglietto che è stato acquisito dai militari dell'arma. Di certo al momento, come già detto dallo stesso comandante della compagnia della città della Piana del Sele, il maggiore Vita Antonio Sisto, sarebbero da escludere atti di bullismo nei confronti del piccolo. E sebbene si debba verificare ogni possibile ipotesi, sembra che il gesto sia nato da uno stato di disagio che il bambino di 10 anni, che frequenta la quinta elementare, aveva a scuola.